Ehi ragazzi, ciao a tutti la nicchia, bentornati qua su MotoGP18 Ragazzi, oggi in seconda gara della carriera Naturalmente al momento sto giocando con la categoria Rocky Cup Ci troviamo ragazzi in Italia al Mugello E se avete visto l'ultimo gameplay Sapete sicuramente che oggi parto in prima posizione Ragazzi, sto registrando la voce a parte Perché per concentrarmi al massimo ho preferito registrare senza voce Altrimenti rischio di fare una gara pessima Buongiorno, buongiorno a tutti gli appassionati di motociclismo Oggi si corre tra le colline della Toscana Dove sta per prendere il via il Gran Premio d'Italia Il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole E gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media stagionale Ok, ci siamo ragazzi, mossa parte Allora questa è la griglia di partenza raga Parto primo, secondo on, q e così via raga Ci siamo ragazzi, parte Devo assolutamente partire bene Devo mantenere la prima posizione Altrimenti rischio seriamente di non arrivare poi primo Perché se qualcuno mi supera Poi è tosta riuscire a superare di nuovo È veramente tosta Quindi la prima curva va affrontata bene Ovviamente però non posso spingere al massimo Perché ancora le gomme non sono abbastanza calde E quindi devo stare attento Rischio altrimenti di scivolare Quindi cerco di spingere Ma non troppo Il primo giro devo stare attento a non spingere troppo Ma comunque per intanto va abbastanza bene Riesco a tenerli distanziati Vi ricordo anche raga che praticamente ho alzato la difficoltà L'ho messa al 55% Mentre la prima gara l'ho diciamo disputata al 50% Perché la prima l'ho vinta con un po' di facilità E quindi ho deciso ok metto 55% Alzo l'asticella della difficoltà piano piano Vediamo come mi trovo in base ai miei limiti E quindi al momento stiamo gareggiando con la difficoltà al 55% Ma se dovessi vincere Se dovessi vincere abbastanza facilmente Naturalmente spingerò l'asticella della difficoltà al 60% Comunque siamo a metà giro E tutto sommato sto riuscendo a tenere testa al gruppo Speriamo quindi di fare una buona gara Devo stare solo attento a dove poggio la ruota posteriore Altrimenti rischio di scivolare Quindi come vi dicevo ragazzi La voce la sto aggiungendo durante l'editing Perché parlare così e guidare così Non è una cosa per niente facile Quindi preferisco fare la telecronaca in questo momento Allora affrontiamo l'ultima curva È una curva un po' complicata Perché stringe parecchio all'inizio e poi allarga E quindi se non la affronto bene Rischio di finire fuori pista Comunque concludo questo primo giro In testa Mantenendomi in testa Con un vantaggio di 0,6 decimi Perfetto Due minuti e dieci secondi il mio giro I giri ragazzi sono cinque La prima gara era composta da quattro giri Questa seconda da cinque Perché mi avete detto Nick ma la gara è durata un po' poco Quattro giri sono pochi E allora ho messo cinque Cinque rende oltretutto la gara un po' più lunghetta Viene anche il video un po' più lunghetto Altrimenti Ne veniva fuori un video un po' troppo corto E poi se qualcosa va storto Ovviamente con cinque giri C'è un po' di possibilità di recuperare Ma allo stesso tempo Se mi trovo in prima posizione Devo soffrire un giro in più Oltretutto Quindi ci sono i vantaggi e i svantaggi Ok qui ahimè Accidenti Non ho stretto abbastanza Qui invece sì Però comunque sia Guarda là Allo stesso tempo Sono finito un po' fuori Perché andavo un po' troppo veloce Devo stare attento Perché se scivolo Mi gioco al 100% La prima posizione Poi Non la recupero più Se cado La prima posizione Non la recupero più Devo quindi stare attento Almeno a non cadere Allora Carrasco mi segue A 1,2 secondi Quindi ho una buona Ho un buon margine di vantaggio Raga Vado a concludere Questo secondo giro Ancora in testa Quanto abbiamo ancora Credo 3 giri circa No? Devo quindi resistere In prima posizione Altri 3 giri Ce la farò raga Oppure questo Oppure questa gara Sarà un fail Boh Allora 2 minuti e 4 Anzi quasi 2 minuti e 5 Al momento Detengo io il giro più veloce Carrasco mi segue A cos'era Un secondo circa Quindi ha recuperato Qualcosina Devo assolutamente spingere Un po' di più Devo mantenere le distanze Perché se dovessi fare Un piccolo errore Poi Mi recuperano Abbastanza in fretta Mi raggiungono Molto in fretta Quindi ho bisogno Di un po' di margine Di vantaggio Un secondo e 7 Benissimo Il secondo mi segue A un secondo e 7 Ho guadagnato Un bel po' di vantaggio In neanche mezzo giro Ho guadagnato Circa mezzo secondo Di vantaggio Un secondo e 7 Praticamente penso che La difficoltà Al momento La difficoltà Forse che è ancora Un po' bassa Potrei alzarla Al 60% Perché ho guadagnato Un mucchio di vantaggio Quindi penso che Potrei spingere Un pochettino L'asticella Ovviamente Se cado Non cambia niente A prescindere Dalla difficoltà Se dovessi cadere Perdo A prescindere Della prima posizione Ovviamente Tempo che riparto Tempo che riparto Ovviamente Mi superano Intanto Intanto Inquadro Brevemente Dal casco Giusto Per farvi Un po' Vedere Però Non riesco A guidare In prima persona Raga Non ce la faccio Rischio Veramente Di finire fuori strato In prima persona È troppo Complicato Preferisco guidare Con questa visuale Mi trovo Molto Molto Bene Molto Di citoy sized Come einer Di Ma Di 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 D Grazie a tutti. Comunque ragazzi concludiamo questo quattro giro ancora in prima posizione, ci avviamo ragazzi quindi in questo ultimo giro, se riesco a tenere la prima posizione porta a casa altri 25 punti, quindi due gare, due vittorie in questo caso, 50 punti un ottimo vantaggio per magari concludere in buona posizione questo campionato, anche se ancora ovviamente mancano tante gare, però 50 punti sono un buon inizio, anche perché mo vi dicevo se vinco alzo ragazzi la difficoltà, quindi più avanti non sarà così eventualmente semplice vincere, perché man mano che vado meglio alzo la difficoltà ovviamente no, ovviamente non sono il tipo da ponzi ponzi po po po, ovviamente se vedo che vinco con facilità alzo la difficoltà, ovviamente la alzo. Allora, riesco ad affrontare ancora una volta questa curva abbastanza bene, ovviamente sto cercando di non spingere troppo per non rischiare inutilmente, è inutile rischiare troppo, ho un buon vantaggio quindi non mi conviene spingere troppo, non posso rischiare di cadere, è meglio spingere un po' di meno e andare sul sicuro. Ormai più o meno mancano tre curve circa, sì mancano tre curve, questa a sinistra, una a destra e una a sinistra, ok? Queste sono molto facili come curve, allora rimane questa curva che è un po' complicata però non è pericolosa, bisogna solo saper frenare nel momento giusto, Per affrontare questa curva bisogna solo saper frenare nel momento giusto e poi è abbastanza facile. Ok raga, a questo punto penso proprio che è abbastanza ovvio il risultato, Nick vince, Nick vince in prima posizione raga, Nick arriva primo, un'altra vittoria raga. Naturalmente ragazzi come vi dicevo alzerò la difficoltà perché così è un po', un po', non dico troppo facile però posso fare di meglio, Quindi alzerò la difficoltà, la porterò a 60 se poi, poi magari la alzo ancora di più. In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti diamo una rapida occhiata alla classifica finale della gara. Quindi ho vinto con un vantaggio di 3 secondi e 6 raga, quindi come vi dicevo alzo la difficoltà, nel caso la alzerò ancora di più se la prossima gara la vinco con eventuale facilità. Comunque sì raga vi faccio vedere un po' di replay così potete godere di una visuale un po' diversa. Ecco che arriva Nick! Perfetto, ho anche deciso di farvi vedere un po' la visuale dal casco per godere un po' anche di quest'altra visuale che ahimè non riesco a sfruttare per via, insomma non riesco a guidare con questa visuale, con questa visuale io non riesco a guidare. Ovviamente dal replay è tutta un'altra storia, ma guidare con questa visuale secondo me è proprio impossibile, o quasi. Però nel replay è bella, nel replay è una bella visuale. Anche quest'altra visuale è molto bella raga. Da notare come accelera veramente, guardate la mano eh, accelera veramente, non è la mano lì tanto per dire, dà veramente i colpi di acceleratore, è fatto veramente bene. Anche quest'altra visuale è bellissima. Guardate i miei avversari come possono soltanto guardare il mio scarico per tutto il tempo. E boom! E questo era il primo giro raga. Benissimo ragazzi, penso proprio quindi che possiamo concludere qui questo gameplay, non c'è molto altro da farvi vedere. Ragazzi spero come sempre che questo gameplay vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace se questa serie vi sta piacendo, supportate la serie ragazzi. Vi ricordo che in descrizione ho trovato il link per poter comprare il gioco scontato. E ragazzi questa è la classifica, nicchie 50 punti e via via dicendo e discorrendo i vari avversari con i loro punteggi. Ragazzi quindi vi saluto come sempre, statemi bene, ci becchiamo presto, ciao alla prossima!